la nonna Pina sta salendo ma no ma perché se le tralotte sono salendo senza il gip e cip però la Pina sta salendo è vero quando mi do buongiorno mando un saluto mando un saluto ciao amore a chi saluti? a tutti quanti che mi ero da Anna chi Anna? Anna Abbiot è tanto